Io penso che dovremmo mettere un po' in archivio questa immagine del fanalino di coda, ammesso che sia stata stabilmente la realtà, perché anche quando se ne parlava molto forse non era fino in fondo la realtà. Quello che guardiamo oggi è che abbiamo in difficoltà nella crescita soprattutto alcune zone dell'Unione Europea, l'Europa centrale, i paesi nordici e i paesi baltici. Sono paesi che hanno avuto crescita negativa l'anno scorso, mentre altri paesi hanno avuto una crescita moderata. Io ho l'ambizione di ritenere che questo si deve anche al fatto che un grosso impegno di fondi comuni europei attraverso il PNRR e questo tipo di operazioni ha contribuito a evitare un allargarsi di differenze o addirittura ha fatto avanzare alcuni paesi che normalmente erano più in difficoltà.